Oggi Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni. Il suo talento, la sua comicità originale, i personaggi che ha mirabilmente interpretato nella lunga carriera, sono parte dell'immaginario degli italiani e suscitano tuttora interesse e simpatia. È stato un simbolo del cinema italiano, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cinema lo annovera tra i suoi grandi, ha giunto il capo dello Stato. Ne apprezziamo ancora più il valore in un momento come quello che stiamo vivendo, segnato da problemi inediti ma anche dal diffuso desiderio di una ripartenza.